Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Molta carne al fuoco nel Consiglio dei Ministri che si è appena concluso. Ci sono diversi provvedimenti, devo dire, tutti molto importanti. Chiaramente partiamo dalla riforma costituzionale. Un'altra riforma viene licenziata oggi, in Consiglio dei Ministri, dopo le altre che abbiamo già approvato in questo anno. Si tratta ovviamente della riforma costituzionale che introduce l'erezione diretta del Capo del Governo, quindi del Presidente del Consiglio dei Ministri, e garantisce sostanzialmente i due grandi obiettivi che dall'inizio noi ci siamo impegnati con gli italiani a realizzare. Da una parte garantire il diritto dei cittadini a decidere a chi farsi governare, mettendo sostanzialmente fine alla stagione dei ribaltoni, alla stagione dei giochi di palazzo, alla stagione del trasformismo, delle maggioranze al cobaleno e dei governi tecnici. Insomma, di tutti quei governi che nel corso degli anni sono sostanzialmente passati sulla testa dei cittadini per realizzare cose che i cittadini non avevano deciso. Il secondo di questi obiettivi è garantire che chi viene scelto dal popolo possa governare con un orizzonte di legislatura, quindi garantire sostanzialmente una stabilità del Governo, avere cinque anni per realizzare il proprio progetto, garantire quella stabilità che è una condizione sostanziale dal nostro punto di vista per costruire una strategia e per avere una credibilità a livello nazionale e a livello internazionale. Non sta a me ricordare, perché lo farà il Ministro Casellati quando arriverà, che negli ultimi 75 anni, nei 75 anni di storia repubblicana, noi abbiamo avuto 68 governi, con una vita media di circa un anno e mezzo. Io considero questa la madre di tutte le riforme che si possono fare in Italia. La considero la madre di tutte le riforme che si possono fare in Italia perché se noi facciamo un passo indietro e guardiamo a quello che per esempio è accaduto in Italia negli ultimi vent'anni, in Italia e in Europa, negli ultimi vent'anni, prendiamo ad esempio il tempo trascorso tra il 2002 e il 2022, in Italia noi abbiamo avuto nove presidenti del Consiglio con dodici governi diversi, in Francia ci sono stati quattro presidenti della Repubblica, in Germania ci sono stati tre cancellieri. Nello stesso periodo di tempo Francia e Germania sono cresciute di più del 20%, l'Italia è cresciuta di meno del 4%. E quindi noi dobbiamo farci una domanda perché o tutti i politici italiani sono peggiori dei politici francesi e tedeschi e francamente io non lo penso, oppure qualcosa non ha funzionato nel sistema. E quello che non funziona nel sistema è esattamente il tema dell'orizzonte della legislatura perché quando si ha un orizzonte di legislatura molto limitato si tende ovviamente a privilegiare tutto quello che immediatamente torna in termini di consenso rispetto ad avere una strategia, si tende a privilegiare la spesa corrente rispetto agli investimenti e quindi anche tutto quello che abbiamo visto relativamente al tema del debito pubblico, della mancanza di una strategia industriale e perché questa assenza di stabilità ha anche obiettivamente creato un problema nella nostra credibilità anche a livello internazionale nella continuità dei nostri progetti della nostra interlocuzione e perché quando si ha un orizzonte di legislatura molto breve e cioè quando i governi vanno a casa mediamente dopo un anno e mezzo questo produce una debolezza strutturale della politica che diventa debolezza in rapporto alle concentrazioni economiche che diventa debolezza in rapporto alle burocrazie che diventa debolezza in rapporto agli interessi particolari. Per questo io credo che questa sia una riforma fondamentale lo voglio dire anche a chi ha detto in queste ore, ma in questi mesi che bisogno c'è, non è una priorità, questo è un governo stabile e quindi non è una priorità la riforma costituzionale invece è una priorità e proprio perché noi siamo un governo stabile e forte abbiamo la responsabilità di cogliere questa occasione e di porci anche il problema di che cosa accadrà dopo cioè di lasciare a questa nazione qualcosa che possa obiettivamente risolvere alcuni dei suoi problemi strutturali. Dopodiché ovviamente se non fossimo il governo politico che siamo non avremmo la responsabilità di realizzare quello che gli italiani ci hanno chiesto di realizzare ma noi siamo un governo politico e intendiamo realizzare il nostro programma. Il testo di riforma che noi abbiamo approntato prende in considerazione e tiene conto delle riflessioni e dei suggerimenti che sono anche stati raccolti durante il nostro confronto sia con i partiti dell'opposizione, sia con i partiti ovviamente della maggioranza con la società civile, come sapete abbiamo fatto diversi incontri su questa materia. Per noi in buona sostanza erano e sono irrinunciabili gli obiettivi che vi ho raccontato nella realizzazione del provvedimento ci siamo posti il problema di immaginare un provvedimento che potesse incontrare il più ampio consenso possibile non vogliamo imporre una riforma, vogliamo provare a fare una riforma con la maggioranza sicuramente degli italiani possibilmente con la maggioranza anche delle forze politiche e quindi abbiamo preso alcuni elementi che erano ricorrenti nelle interlocazioni che abbiamo avuto e l'abbiamo garantiti all'interno del provvedimento. Il primo di questi elementi che torna a 360 gradi è il ruolo del Presidente della Repubblica. Il ruolo del Presidente della Repubblica viene da tutti considerato anche dalla stragrande maggioranza dei cittadini come un ruolo di assoluta garanzia e quindi come un totem e noi abbiamo deciso di non toccare le competenze del Presidente della Repubblica salvo ovviamente per quello che riguarda l'incarico che si dà rispetto a un Presidente del Consiglio che in questo caso viene eletto direttamente dai cittadini. L'altro ruolo sul quale c'è stata molta attenzione è quello di mantenere inalterato il ruolo del Parlamento come contrappeso particolarmente rispetto al Presidente del Consiglio eletto e anche questo è un elemento al quale ci siamo dedicati. Vengono sostanzialmente in questo provvedimento modificati i quattro articoli della Costituzione poi lo spiegherà, ripeto, ecco l'è arrivato il Ministro Casellati poi do la parola al Ministro Casellati che entra meglio nel dettaglio con la sua conoscenza anche costituzionale della materia. Il Presidente del Consiglio viene eletto a suffraggio universale diretto ovviamente, viene eletto contestualmente alle Camere con unica scheda, viene rinviata alla definizione della legge elettorale la responsabilità di garantire una maggioranza al Presidente del Consiglio eletto è prevista una norma antiribaltone cioè in caso di dimissioni, di impedimento, di sfiducia il Presidente eletto può essere sostituito in un unico caso solo da un parlamentare quindi fine dei governi tecnici da un parlamentare della maggioranza quindi fine dei ribaltoni e solo per realizzare il programma di governo e le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio eletto quindi non c'è più la possibilità di costruire maggioranza e arcobaleno per realizzare programmi che nessuno ha votato e c'è invece la previsione di una norma di garanzia sempre rispetto alla stabilità di continuità per quella maggioranza di portare avanti quel programma quindi un elemento che rafforza ulteriormente secondo noi la stabilità della legislatura questo può accadere però solamente una volta in caso di ulteriori problemi o in caso in cui il parlamentare eletto non raggiunga la fiducia in Parlamento si torna alle urne vengono aboliti i senatori a vita fatto salvo ovviamente per gli ex Presidenti della Repubblica è fatto salvo chiaramente il fatto che rimangono in carica gli attuali senatori a vita ma noi abbiamo creduto che anche questa norma fosse necessaria particolarmente dopo il taglio del numero dei parlamentari perché l'incidenza dei senatori a vita è chiaramente molto aumentata rispetto al numero dei parlamentari che oggi c'è questo a grandi linee poi ripeto il Ministro Casellati ci tornerà sopra voglio dire che sono molto fiera di questa riforma che confido che possa esserci un consenso ampio in Parlamento che invece se quel consenso ampio in Parlamento non dovesse esserci sarà agli italiani che chiederemo che cosa pensano con ovviamente il referendum noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare abbiamo fatto quello che ci siamo presi l'impegno a fare mettendo l'Italia di fronte all'occasione storica di una semplice rivoluzione che ci porta nella Terza Repubblica ma poi deve sempre decidere il popolo se vuole avere questa occasione oppure no dopodiché in continuità con la riforma costituzionale abbiamo portato oggi in Consiglio dei Ministri anche il secondo provvedimento che riguarda il piano Mattei dico in continuità perché parlavamo di strategia e di una stabilità che serve a costruire le strategie il tema del piano Mattei del quale noi parliamo dal nostro insediamento è esattamente questo cioè è forse il più significativo progetto strategico di questo governo a livello geopolitico di un'Italia che vuole tornare protagonista nel Mediterraneo il piano Mattei è una piattaforma programmatica operativa sulla quale costruire un parternariato eco paritario con le nazioni africane trasformando le crisi anche in una possibile occasione di centralità, di guardare lontano di immaginare progetti di lungo termine noi abbiamo lavorato sodo in questi mesi particolarmente con il Ministro Tajani ma tutto il Consiglio dei Ministri è impegnato su questo progetto abbiamo lavorato a lungo sul piano ora si tratta di finalizzarlo ora si tratta di finalizzare la stesura definitiva e il confronto definitivo con i Paesi coinvolti e con i Paesi terzi per poi portare il piano in Parlamento e al confronto con l'Unione Europea con la quale pure la materia l'abbiamo varie volte discussa e confrontata e siccome è un progetto serio ed è un progetto che ha bisogno di mettere insieme tutto il Consiglio dei Ministri di mettere insieme tutti i livelli istituzionali di mettere insieme anche il livello delle nostre relazioni internazionali di collaborare con anche la società civile ha bisogno di una governance e con il decreto che noi abbiamo definito oggi abbiamo strutturato questa governance con la previsione della nascita di una cabina di regia che viene preseduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o in subordine delegata al Ministro degli Affari Esteri che è comunque Vice Presidente da tutti i Ministri che sono competenti sulla materia dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome dalle varie agenzie e società dello Stato che si occupano di cooperazione a sviluppo rappresentanti delle imprese a partecipazione pubblica università, ricerca, terzo settore esperti delle materie che verranno trattate la cabina di regia ha come compito fondamentalmente quello di coordinare tutte le attività e i vari livelli ma le attività del Governo aggiornare costantemente il piano monitorare la sua attenzione e presentare la relazione annuale che deve essere presentata al Parlamento perché abbiamo detto che avremmo portato questo piano in Parlamento e portiamo questo piano in Parlamento c'è ovviamente una apposita struttura di missione poi anche qui il Ministro Tagliani che ne è competente entrerà più nello specifico quello che voglio dire è che questa accelerazione questa strutturazione del tema del piano Mattei è per noi propedeutica anche a una serie di altre attività che stiamo svolgendo come voi sapete il 28 e 29 gennaio 24 è prevista la conferenza Italia-Africa ma questo lavoro si lega anche ai seguiti della conferenza su migrazioni e sviluppo che abbiamo tenuto qui a Roma nello scorso mese di luglio e alla presidenza italiana del G7 che sarà nel 2024 e che avrà tra i suoi punti fondamentali proprio il tema del rapporto con il continente africano, del Mediterraneo e delle migrazioni e quindi tutto torna all'interno di un'unica strategia c'è poi qui il Vice Ministro Leo che ringrazio perché è arrivato in Consiglio dei Ministri oggi anche un ulteriore e importante provvedimento decreto legislativo sempre collegato al tema della riforma fiscale dopo quello sullo statuto del contribuente questo ulteriore decreto legislativo interviene sulla disciplina dell'accertamento favorendo la partecipazione del contribuente anche in fase di accertamento disegnando come è nella nostra visione un fisco più collaborativo con il contribuente intervenendo anche dal lato della riduzione delle sanzioni chiaramente senza abbassare la guardia sulla lotta all'evasione fiscale la previsione più significativa è quella dell'introduzione del concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni che è uno strumento che appunto aumenta la collaborazione con il fisco rappresenta un segno di fiducia dello Stato verso i contribuenti perché con l'adesione al concordato preventivo il contribuente viene liberato dagli accertamenti per i successivi due anni quindi è un accordo che si fa a monte con lo Stato poi anche qui il Vice Ministro entrerà più nello specifico dall'altra parte interveniamo per rafforzare l'azione di contrasto come dicevamo all'evasione fiscale attraverso strumenti informatici digitali soprattutto la capacità di far interoperare le banche dati per essere più efficaci chiaramente sempre garantendo la tutela della privacy che è per noi sempre molto importante c'è poi un provvedimento che pure io considero estremamente importante del Ministro Locatelli riforma molto importante sul tema della disabilità che cambia sostanzialmente l'approccio della disabilità poi il Ministro Locatelli anche qui entrerà più nel concreto recepisce sostanzialmente i principi delle Nazioni Unite sulla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità mette sostanzialmente la persona al centro con l'obiettivo di consentirle di vivere e partecipare alla vita sociale su un principio di uguaglianza con gli altri sono tanti provvedimenti molto precisi che disegnano secondo me una risposta estremamente efficace voglio ringraziare per questo il Ministro Locatelli e chiudo con l'ultimo provvedimento pure molto importante che è la deliberazione dello stato d'emergenza che il Consiglio dei Ministri ha deciso per il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato in conseguenza degli eventi meteorologici eccezionali che si sono sviluppati nella scorsa notte che hanno causato come sapete alcune vittime chiaramente la solidarietà e il cordoglio di tutto il Consiglio dei Ministri dell'Italia intera per le famiglie di queste vittime ma anche l'allagamento, l'isolamento di diverse località diverse famiglie sono state costrette a evacuare dalle loro abitazioni quindi io ho sentito stamattina ovviamente ho sentito la protezione civile il Ministro Musumeci, il Presidente Gianni abbiamo deciso di appunto insomma di deliberare lo stato d'emergenza e abbiamo previsto un primo stanziamento di 5 milioni di euro che serve chiaramente a garantire le misure e gli interventi più urgenti io mi fermerei qui mi pare di aver detto tutte le cose più salienti passo la parola ai vicepremier e poi ai ministri competenti che chiaramente ci racconteranno più nel dettaglio i provvedimenti dei quali sono competenti grazie grazie condivido assolutamente l'importanza della riforma della proposta di riforma costituzionale presentata oggi dal Consiglio dei Ministri ne andrà in Parlamento per quanto mi riguarda una battaglia storica ancora ai tempi dei governi Berlusconi si insisteva per una riforma che andasse nella direzione della stabilità e della governabilità del nostro Paese quindi è molto positivo il fatto che sia anche stato rispettato l'impegno preso con gli elettori perché un governo politico è forte perché rispetta il mandato che ha avuto dagli elettori nel nostro programma c'erano alcune questioni fondamentali e questa è una delle priorità la riforma costituzionale nella direzione di offrire più stabilità meno ribaltoni anzi nessuno e quindi questo significa che il nostro Paese può guardare con più ottimismo al futuro e anche lo dico da Ministro degli Ester è una questione di credibilità internazionale se passerà questa riforma come noi siamo convinti accada avranno in tutti i consensi internazionali da discutere per cinque anni con gli stessi Ministri italiani se c'è un elemento di debolezza c'è stato un elemento di debolezza nei nostri interlocutori vedere cambiare in continuazione il loro interlocutore è vero che c'è la continuità amministrativa ma sapete meglio di me quanto è importante la conoscenza e la relazione personale questo rafforzerà anche sul palcoscenico internazionale anche sui mercati la posizione del nostro Paese sono assolutamente soddisfatto e condivido l'impostazione di non toccare alcun potere del Capo dello Stato che rappresenta sempre e comunque un elemento di garanzia per quanto riguarda il decreto Mattei è un'altra scelta che considero di grande importanza perché risponde alla questione migrazione la questione stabilità del continente africano lo illustra adesso perché l'immigrazione non è un problema che si può risolvere soltanto intervenendo alla fine del percorso bisogna intervenire a monte il decreto Mattei punta anche a risolvere questo problema con una visione dell'Africa che noi guardiamo non con gli occhiali dei neocolonizzatori ma con gli occhiali degli amici e vogliamo anche lavorare con il continente africano per elaborare un progetto che possa essere multevolmente portatore di benefici perché i nostri interlocutori aspettano una presenza dell'Italia e ho suggerito visto che me ne sono occupato sempre quando ero commissario europeo quando ero presidente del Parlamento europeo della necessità di questo piano avevo parlato in piano Marshall europeo io credo che l'Italia possa essere veramente il portabandiera di un progetto europeo partendo dal piano nazionale potremmo diventare protagonisti di una azione più forte da parte dell'Europa con la buona prate con il buon progetto del piano Mattei oggi abbiamo approvato un decreto che contiene che contiene gli elementi giuridici per creare la struttura che deve elaborare il piano Mattei su quale stiamo già lavorando da tempo è composto in tutto di sei articoli il primo riguarda i partecipanti alla cabina di regia quindi che poi è chiamata a scrivere il testo del piano fanno parte tutti i ministri in più ci sono il vice ministro degli esteri il vice ministro dell'industria e del Made in Italy il piano a una durata di quattro anni può essere aggiornato anche prima della scadenza e ci sono coinvolte non soltanto i ministeri ma anche imprese private o pensiamo al Presidente del Consiglio la conferenza delle regioni province autonome l'agenzia italiana per la cooperazione e sviluppo l'ICE che è l'agenzia per la promozione all'estero le società di casse depositi e prese le società Sace la società Simes cioè tutte quelle società che lavorano per sostenere la presenza e la internazionalizzazione delle nostre imprese la cabina come diceva il Presidente è convocata dal Presidente del Consiglio o su delega è presieduta dal Vice Presidente che è il Ministro degli Esteri il Vice Presidente del Consiglio non ci sono per la partecipazione alla cabina di regia compensi, gettoni di presenza, rimborsi o spese e altri emolumenti e il segretariato della cabina di regia è assicurato dalla struttura di missione cioè la cabina di regia dovrà elaborare in collaborazione anche con gli stati del continente africano il testo che si potrà valere di una struttura di missione cioè che è un'organizzazione che svolge l'attività assicura il supporto al Presidente del Consiglio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo assicura il supporto al Presidente al Vice Presidente della cabina di regia della loro attività cura il segretariato della cabina di regia e predispone la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5 ecco c'è anche il coinvolgimento del Parlamento perché è giusto che entro il 30 giugno di ciascun anno il Governo trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del piano preve approvazione da parte della cabina di regia la relazione indica inoltre le misure volte a migliorare l'attuazione del piano Matteo ed accrescere l'efficacia delle relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti quindi saranno funzionari pubblici in generale gestire questa struttura di missione che sarà guidata da un diplomatico quindi la struttura è assegnata un condigente di esperti che non avranno compenso mentre in tutte le spese complessive saranno di circa di 500.000 euro questo per i viaggi per gli spostamenti eventuali dei funzionari ecco questo è più o meno il contenuto del del decreto che verrà presto presentato alla Commissione appena sarà controfirmato dal Presidente della Repubblica entrerà e entra in vigore e viene presentata alle Camere per essere poi ratificato quindi io credo che sia un passo politicamente importante anche per rafforzare il ruolo dell'Italia nel continente africano un ruolo politico c'è già stata un'inversione di rotta in un momento di grande tensione internazionale di aumento dei flussi migratori credo che questo piano possa rappresentare per l'Italia un punto di vanto che permetta di farci essere uno dei principali interlocutori dei paesi africani Sì un passaggio importante quello di oggi perché rafforzare il governo a livello centrale e nel contempo applicare quello che la Costituzione già oggi prevede in termini di autonomia significa dare più peso più senso al voto dei cittadini che se votano una squadra di un certo tipo con un programma di un certo tipo poi non possono vedere ribaltoni governi tecnici o cambi di maggioranze quindi un passaggio assolutamente importante così come sul tema della disabilità la semplificazione la sburocratizzazione significa per migliaia di famiglie perdere meno tempo girare meno uffici e avere anche meno problemi e meno frustrazioni perché dover ribadire magari viennalmente la propria disabilità perdere le disabilità che ahimè ad oggi non vedono possibilità di cura o di miglioramenti è assolutamente inutile iniquo ingiusto immorale frustrante antieconomico peraltro anche per la pubblica amministrazione che magari si può dedicare ad altro una nota di 30 secondi al volo a qualche collega che chiede queste informazioni mi sono fatto dare gli aggiornamenti reali sul tema infrastrutture e trasporti e viabilità in Toscana e zone limitrofe visto che al momento ci sono ad esempio più di 48 mila utenti senza energia elettrica ci sono 450 tecnici Enel che stanno lavorando al momento l'alta velocità è rallentata fra Milano e Roma per gli ovvi problemi a Firenze sono sospese due linee di RFI Bologna-Prato e Pistoia-Prato a livello di ANAS quindi di sistema autostradale sono interrotte alcune tratti della statale della Cise della Tosco-Romagnola in Toscana Val Davito e Aurelia in Liguria San Michele al Tagliamento in Veneto e Val Trebbia in Emilia-Romagna sono chiusi in Lombardia per neve Stelvio Spluga Mortirolo e San Marco su strade autostrade ferrovie siamo in contatto come diceva Giorgia con gli amministratori locali per il ripristino quanto più veloce e immediato delle linee di trasporto e di comunicazione interrotte posso dare una buona notizia di arrivare nel corso della conferenza stampa sono appena usciti attraverso il valico di Rafa sette cittadini italiani anche con passaporto palestinesi con i loro familiari in tutto sono dieci persone tra cui questo gruppo ci sono anche due donne incinte una al nono mese che verrà accompagnata in ambulanza della croce scusate della mezzaluna rossa al Cairo e sono tutti in viaggio verso il Cairo sono tutti in buona salute quindi è una buona notizia per quanto riguarda la pur difficile situazione nella striscia di cazzo grazie Antonio siamo molto molto contenti di questa notizia la parola al ministro Casellati grazie allora il disegno di legge costituzionale che oggi andiamo a presentare è ispirato a un criterio minimale di modifica della costituzione vigente nella convinzione che si debba operare per quanto possibile in continuità con la nostra tradizione costituzionale con la nostra tradizione parlamentare e che pertanto gli interventi di revisione che andiamo a fare debbono limitarsi a quelli strettamente necessari per gli obiettivi che noi vogliamo cogliere questo consente da un lato di ridurre anche le difficoltà applicative e i dubbi interpretativi ma dall'altro anche di preservare le prerogative del presidente della repubblica che l'esperienza repubblicana ha confermato quale figura chiave della forma di governo italiana e dell'unità nazionale per quello che riguarda la proposta come ha già detto il premier Meloni poggia su due capisaldi uno è dare stabilità e durata ai governi che sono stati sessantotto in settantacinque anni di storia repubblicana con una durata media di quattordici mesi e l'altro è quello di restituire voce ai cittadini che per troppo tempo hanno riscontrato l'irrilevanza del loro voto perché nel disallineamento che c'è stato fra il loro voto e la forma di governo il che ha provocato una sfiducia nella politica una disaffezione e quindi un allontanamento un astensionismo galoppante nelle ultime tornate elettorali la proposta che io considero la riforma delle riforme e a ragione ha detto il presidente Meloni che noi entreremo con questa con questa revisione nella terza repubblica perché spesso appunto si sente dire ma le priorità sono altre fisco pensioni infrastrutture lavoro e così via certamente sì è vero e come se quando noi parliamo di riforme costituzionali si trattasse quasi di una esercitazione dialettica stratta non è così perché non si può fare nessuna delle riforme che ho citato fisco pensioni infrastruttura eccetera e così via se c'è un governo debole precario perché non raggiungono i loro obiettivi non ce la fanno in una successione continua di governi dove si cambiano continuamente le regole del gioco ed allora la proposta opera su cinque versanti che sono tutti riconducibili nella loro essenza al criterio della decisività e al rispetto del voto popolare per cui per primo si introduce il meccanismo di legittimazione democratica sono cinque i versanti cinque gli articoli che vengono toccati con quindi questo meccanismo di legittimazione democratica diretta del presidente del consiglio che viene eletto a suffragio universale e diretto con una votazione popolare che si svolge contestualmente alle elezioni per le camere perché è importante questo questa contestualità perché spesso si è detto vi siete inventati almeno così ho letto un premierato che è stato un fallimento perché l'unico l'unica forma di premierato esistente nel mondo è quella israeliana e che ha fallito perché ha avuto tre elezioni 1996 99 2001 dopodiché l'hanno abrogata ma fallito perché perché a differenza nostra non ha posto un collegamento tra l'elezione del presidente e contemporaneamente della lista legata al presidente il che ha comportato una frammentarietà dei partiti e il fatto che il premier fosse il ostaggio per così dire dei vari partiti quindi anche questo mi è sembrato una cosa un po' singolare dal punto di il secondo punto è che si assicura la stabilità del nel tempo dell'incarico del presidente del consiglio sancendo una durata quinquennale si garantisce il rispetto del voto popolare della volontà finalmente e della volontà dei cittadini una continuità di questo mandato elettorale che viene conferito dagli elettori prevedendo però una clausola antiribaltone che il presidente del consiglio in carica che prevede che il presidente del consiglio in carica possa essere sostituito solo da un parlamentare della maggioranza e solo al fine di proseguire nell'attuazione del medesimo programma di governo quindi no a governi tecnici si fa carico poi della questione della governabilità perché si salvaguardando al contempo quello della rappresentatività che sono i due elementi tipici di ogni anche legge elettorale affidando alla legge elettorale la determinazione di un sistema elettorale delle camere attraverso un premio assegnato su base nazionale che assicuri al partito o alla coalizione di partiti collegati al presidente del consiglio la maggioranza dei seggi parlamentari infine il quinto punto e si supera la categoria dei senatori a vita vedete noi in questa prospettazione abbiamo cercato di portare la legittimazione democratica al più ampio numero possibile di istituti di forma di governo e quindi anche per quello che riguarda i senatori a vita l'eccezione della norma transitoria che prevede che certamente quelli che ci sono permangano e questo intervento poi si rende anche inevitabile perché con la riduzione del numero dei parlamentari si è ridotto anche il margine delle maggioranze in questo ramo del Parlamento e quindi questo fa da ponte con la prospettiva di stabilità che noi vogliamo dare alle maggioranze quindi è una riforma come dicevo minimale ma di grande portata perché permetterà davvero non soltanto di avere una credibilità a livello internazionale attraverso la stabilità perché l'Italia sarà più credibile più competitiva nell'economia mondiale dalla stabilità dipendono sempre la possibilità di impresa la crescita economica la fiducia dei mercati la pianificazione della vita delle persone e delle famiglie il rapporto virtuoso con tutte le istituzioni dalle università alle regioni e quindi non si può programmare come dicevo prima il futuro se cambiano nella successione rapida come è stata di governi continuamente le regole del gioco quindi io mi auguro che siccome noi ci siamo presentati al confronto ad un lungo confronto con tutti con le opposizioni con le associazioni economiche di categoria con i sindacati per un lungo confronto senza ricette precostituite e quindi mi auguro che proprio per questo avendo messo a terra tutte quelle che sono state le obiezioni che sono arrivate da varie parti abbiamo cercato di costruire un modello che potesse soddisfare le esigenze di tutti anche delle opposizioni quindi mi auguro che con questo nel dibattito e nel confronto parlamentare che ci sarà che questo punto di caduta ci sia perché il nostro sforzo è stato massimo abbiamo iniziato con un programma che prevedeva l'elezione del Presidente della Repubblica di fronte a varie obiezioni abbiamo abbassato questa bandierina per venire incontro abbiamo ascoltato anche altre criticità e le abbiamo messe a terra mi auguro quindi che in questo provvedimento possa trovare un ampio consenso nel dibattito parlamentare grazie Ministro Casellati darei la parola al Vice Ministro Leo per l'illustrazione del decreto legislativo riforma fiscale allora grazie innanzitutto va detto che questo provvedimento legislativo è il quinto provvedimento di attuazione della riforma fiscale varato dal governo è un provvedimento importante perché come ricordato il Presidente del Consiglio vuole cambiare passo per quanto riguarda i rapporti tra fisco e contribuente lo facciamo secondo tre direttrici innanzitutto un dialogo molto più attento tra amministrazione finanziaria e contribuente senza abbassare la guardia per quanto attiene alla lotta dell'evasione fiscale e utilizzando in modo molto più incisivo la tecnologia noi sappiamo che oggi abbiamo un tax gap che va da 80 a 100 miliardi questo non da adesso ma sin dagli anni 80 quindi l'obiettivo del governo era proprio di rivedere l'intero assetto del sistema tributario che ormai è risalente risale come voi sapete agli anni 70 il provvedimento è strutturato in due parti una prima parte riguarda proprio i meccanismi dell'accertamento una seconda parte riguarda l'introduzione del concordato preventivo biennale per quanto riguarda i meccanismi di accertamento ridisegniamo proprio le modalità con cui l'amministrazione finanziaria può far valere la sua pretesa tributaria rivedendo bene l'accertamento che deve passare da processi verbali di constatazione che può fare la guardia di finanze che può fare l'agenzia delle entrate a cui il contribuente può fare acquiescenza entro 30 giorni questo accelererà sicuramente la definizione del rapporto e comporterà come già oggi avviene una riduzione del carico sanzionatorio si ridurrà a un sesto la sanzione nel caso in cui si prosegue nell'accertamento si instaurerà un contraddittorio che ad oggi non è a 360 gradi ma invece con la nostra riforma lo sarà tra amministrazione finanziaria e contribuente gli altri due provvedimenti saranno i cosiddetti atti di recupero noi sappiamo che soprattutto in materia di cessione di crediti ci sono state tutta una serie di patologie che attraverso questi meccanismi verranno corretti in modo molto più rapido come pure le compensazioni dei cosiddetti crediti inospettanti crediti inesistenti resta fermo il meccanismo della correzione degli errori formali quindi il meccanismo dell'invio degli avvisi bonari e delle cartelle di pagamento quindi come vedete abbiamo razionalizzato e semplificato tutta l'attività di accertamento che oggi è ricostruita attraverso meccanismi molto più complessi al tempo stesso non abbassiamo la guardia come dicevo per quanto riguarda la lotta all'evasione spingiamo molto sull'analisi di rischio quindi l'interoperabilità delle banche dati salvaguardando come diceva il Presidente del Consiglio la privacy quindi saremmo assolutamente attenti a non invadere la riservatezza dei contribuenti ma al tempo stesso facendosi che attraverso nuove tecnologie intelligenza artificiale machine learning e soprattutto beneficiando delle informazioni che abbiamo attraverso la fatturazione elettronica oggi noi abbiamo circa 2 miliardi 200 milioni di fatture elettroniche attraverso tutti questi meccanismi siamo in grado di dire millimetricamente al contribuente qual è il suo reddito quindi nessuno sconto nessun condono come qualcuno sostiene l'altro aspetto importante riguarda la cooperazione amministrativa che cosa facciamo anche in attuazione a direttive comunitarie ai rapporti che abbiamo con gli altri paesi con i quali abbiamo trattati per contrastare le doppie imposizioni rafforziamo la cooperazione amministrativa tra gli stati in modo tale di acquisire maggiori informazioni per poter contrastare i fenomeni di evasione e di elusione altro aspetto importante riguarda le operazioni intracomunitarie come voi ricordate già nella legge di bilancio del 2023 avevamo inserito una disposizione per contrastare il cosiddetto fenomeno degli apri e chiudi a questo accompagniamo con questo provvedimento meccanismi elusivi che si realizzano attraverso operazioni intracomunitarie quindi quando un operatore extra UE fa operazioni non tracciabili e attraverso l'istituzione di un rappresentante fiscale e la prestazione di specifiche garanzie facciamo in modo di contrastare questi fenomeni infine sulle assicurazioni facciamo sì che anche in materia di imposta sulle assicurazioni ci si allinei a meccanismi che riguardano le imposte indirette in particolare l'IVA velocemente sul concordato preventivo biennale ecco su questo si fonda proprio un nostro diverso approccio nel contrastare l'evasione fiscale dicevo noi oggi abbiamo tantissimi elementi siamo in grado di fare una proposta puntuale ai contribuenti e di dire guarda questo è il tuo reddito se tu accetti questa proposta per due anni non avrai diciamo nessun tipo di contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria fermo restando che gli adempimenti IVA debbono essere sicuramente osservati fermo restando che le dichiarazioni dovranno essere presentate va detto che nel caso in cui l'amministrazione finanziaria riscontra poi che il contribuente non ha dichiarato elementi per almeno il 30% allora in quel caso si esce dal meccanismo del concordato preventivo biennale in ogni caso il momento c'è una tempistica ben definita tra il momento in cui il contribuente fornisce dei dati il momento in cui viene fatta la proposta da parte dell'amministrazione finanziaria e l'accettazione da parte del contribuente questa disciplina si applicherà nel 2024 e nel 2025 e sarà poi prorogabile anche negli anni successivi ovviamente riguarderà i soggetti ISA vale a dire coloro i quali già hanno il cosiddetto punteggio di 8 anche in questo senso non ci discostiamo da quello che è l'attuale assetto normativo e quindi non facciamo nessun favore ai vasori e via dicendo e estendiamo il campo ai soggetti che fruiscono del regime forfettario questo è un po' il quadro di riferimento grazie il viceministro Leo la parola al ministro Locatelli per i provvedimenti sulla disabilità prego grazie presidente grazie a tutti ma grazie davvero a tutti perché oggi portiamo un provvedimento l'attuazione diciamo della legge delega 227 del 21 importantissimo che segna davvero un punto di svolta nella visione della disabilità dal punto di vista culturale non solo pratico che è sicuramente l'elemento più interessante per le persone e per le famiglie ma davvero portiamo un decreto attuativo che contiene un passaggio fondamentale cioè quello di una visione che tenga conto davvero delle persone al centro e delle istituzioni che si muovono per loro quindi non il contrario all'interno del decreto attuativo ci sono due parti fondamentali e due concetti importanti i due concetti sono l'introduzione del concetto di disabilità così come previsto dalla convenzione ONU e quindi andremo a modificare tutte le norme più vecchie insomma anche dal punto di vista proprio formale il concetto di disabilità significa l'interazione negativa con l'ambiente non un'etichetta che mettiamo sulle persone e quindi cancelliamo nella storia normativa le parole o i concetti di persona insomma di persona con handicap portatore o affetto da handicap e modifichiamo tutta questa parte introduciamo anche un altro concetto molto importante che è quello dell'accomodamento ragionevole che dovrebbe essere utilizzato quando una persona si rivolge alle istituzioni e c'è la possibilità diciamo di garantire parità equità nella diciamo nella garanzia dei servizi ma anche con la ragionevole intento di andare incontro alle necessità della persona e le due parti fondamentali del decreto attuativo riguardano la valutazione dell'invalidità civile e quindi il percorso di invalidità civile che le persone devono fare verrà semplificato abbiamo ritenuto e sono profondamente convinta che non possiamo chiedere alle persone con disabilità e alle loro famiglie di presentarsi davanti alla commissione di valutazione ogni anno ogni due anni anche quando hanno una disabilità accertata una patologia gravissima magari anche degenerativa quindi una semplificazione e sburocratizzazione del percorso anche nella parte riguardante i certificati di avviamento della richiesta di invalidità quindi adesso attualmente c'è un percorso abbastanza tortuoso per le famiglie che si sovrappone diversi certificati sia in via amministrativa che dal medico di base noi diciamo che l'avviamento di questa procedura deve bastare ecco può essere attestato da un medico anche ospedaliero autorizzato dall'Inps naturalmente ma che deve essere sufficiente per non complicare ulteriormente la vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie sicuramente è un diciamo è un passaggio importante anche questo epocale perché voi sapete che la condizione di invalidità civile è sempre stata valutata sulla capacità residua di lavorare oggi invece diciamo che verrà valutata sulla funzionalità sul profilo funzionale della persona e questo è richiesto dalla convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità dall'organizzazione mondiale della sanità che introduce proprio l'ICF come classificazione delle disabilità e naturalmente porta all'interno del percorso di valutazione quindi la qualità diciamo il tema qualitativo non solo quello tabellare nell'esaminare la persona quindi sostanzialmente commissioni più magari un pochino più accurate con una nuova composizione ma che non debbano essere ripetute continuamente nel tempo che devono fare una giusta valutazione e naturalmente ci saranno delle eccezioni che il ministero della sanità con un decreto successivo valuterà e che sarà però invertito l'ordine attuale ossia adesso la rivedibilità è per tutti invece in futuro noi diciamo che una volta che è stata accertata la condizione di invalidità debba essere chiesta la rivedibilità solo per alcune categorie specifiche dall'altra parte c'è anche un tema importantissimo che viene introdotto per la prima volta e questo davvero sarà un cambio culturale una svolta importante il tema del progetto di vita il progetto di vita mette davvero al centro la persona con disabilità e fa sì che sia davvero protagonista di quelle che sono le scelte della presa in carico e di cura nel suo percorso di vita trae spunto dalla 328 dove parliamo dei piani individuali trae spunto dalla legge 112 dove parliamo di progetto di vita nella dimensione abitativa ma in realtà tiene insieme tutta la parte sanitaria socio-sanitaria e sociale negli interventi che si rivolgono alla persona ho fatto questo esempio per semplificare perché mi rendo conto che qualche volta è un po' difficile spiegare questi temi così tecnici in pochi minuti ma sostanzialmente ora la persona quando si trova su territorio a dover aver bisogno di un servizio attivare diciamo un servizio comunale relativo alla scuola oppure sanità a carattere sanitario deve girare per diversi uffici deve bussare a tante porte invece noi con il progetto di vita introduciamo il concetto per cui la persona al centro viene valutata e viene condivisa con la persona stessa il percorso da affrontare nei diversi bisogni della vita quindi una conferenza di servizi che si riunisce come già succede con le con l'equipe multidimensionali ma che tiene conto sia del carattere sanitario socio sanitario che sociale dei bisogni della persona una risposta efficace come diceva prima il presidente Meloni e ringrazio davvero sia la presidenza sottosegretario Mantovano tutti i ministri che hanno partecipato perché è un lavoro di squadra e ringrazio anche permettetemi chi ha lavorato alle proposte diciamo di questi provvedimenti che sono le commissioni coordinate dal consigliere Piccione ma che poi al loro interno hanno avuto sia il mondo associativo FAND FISH altre associazioni importanti maggiormente rappresentative del mondo della disabilità ma anche ANCI le regioni le rappresentanze delle categorie dei medici l'INPS ecco tutti i soggetti coinvolti a diverso titolo nella realizzazione del progetto di vita delle persone con disabilità la riforma perché veramente è una grande riforma si avvierà con il primo gennaio 2025 con una sperimentazione e si avvierà naturalmente solo su alcune province si tratta davvero di diciamo andare a rivedere percorsi che da tantissimi anni sono stati svolti sempre nello stesso modo e oggi invece introduciamo un concetto innovativo e soprattutto derivante dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità quindi entrerà in vigore in modo progressivo e naturalmente se qualcuno magari volesse chiedere le risorse sono quelle che ho dichiarato in questi giorni quindi i 350 milioni sono sui capitoli di spesa degli anni successivi a partire dal 2025 poi ci sarà la piena implementazione in entrata in regime della riforma a partire dal 26 e quindi con gli 85 milioni in più che il il MEF ci ha dedicato spostandoli da quest'anno sugli anni successivi quindi io non so se ci sono domande altrimenti io manderò a tutti i giornalisti una scheda dettagliata con tutto naturalmente i passaggi di questo importante decreto grazie 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 anche al ministro rogatelli scusate ci siamo stati lunghi ma i provvedimenti come vi ho detto in apertura erano diversi e tutti significativi prego siamo con le domande Emilia Patta del Sole 24 ore prego buon pomeriggio presidente due domande di merito sulla riforma del premierato che mi sembra che raccolgano anche un po' i dubbi emersi in questi giorni da parte dei costituzionalisti diciamo così degli osservatori più neutrali uno per quale motivo alla fine non si è scelta la soluzione più razionale del simul simul vale a dire se il presidente eletto viene in qualche modo sfiduciato decadela carita si torna alle elezioni l'altra è si rischia di avere un presidente eletto che poi non ha i poteri dei suoi colleghi europei allora la domanda è perché non si è voluto rinunciare all'elezione diretta tecnicamente diretta e fare una sorta di permerato forte con le indicazioni sulla scheda e tutti i poteri di nomina dei ministri di scioglimento delle camere che hanno alcuni colleghi europei perché dico questo perché questa è la proposta storica di una parte del centro-sinistra e del PD e forse su questo si poteva provare a allargare la maggioranza riformatrice e a evitare il referendum che sappiamo i precedenti non portano bene i proponenti grazie grazie a lei guardi sul tema del simul simul come si sa io sono favorevole qualcuno faceva notare come dicevamo in apertura che tenendosi tutto su un'unica persona per paradosso si sarebbe potuto rafforzare un'instabilità e quindi abbiamo immaginato una soluzione che consentisse in casi che io considero abbastanza diciamo così estremi con questo ordinamento di mantenere una possibilità per la legislatura fermo restando che la maggioranza deve rimanere la stessa che il programma deve rimanere lo stesso e si devono continuare a fare le stesse cose di terminare e quindi di andare avanti quindi per me è una soluzione che va comunque bene fermo restando che siccome c'è un lungo leader parlamentare come lei sa se poi il Parlamento volesse ragionare di una forma più restrittiva come il simul simul che è quella dalla quale io sono partita non troverebbe ovviamente la mia opposizione su questo per quello che riguarda il tema del premierato forte francamente devo dirle che non mi torna che sia una proposta dell'opposizione la proposta che a noi è arrivata quando noi ci siamo confrontati con le forze di opposizione prevalentemente era una proposta di cancellierato alla tedesca e soprattutto come le dicevo tutte le opposizioni e non soltanto le opposizioni perché questo devo dire che torna anche in tutte le rilevazioni che sono state fatte sulla materia il tema del ruolo inalterato del Presidente della Repubblica è un tema considerato di enorme garanzia e quindi io ho scelto noi abbiamo scelto parlandone di venire in questo sì anche incontro a quello che pensa la maggioranza degli italiani e a quello che pensano tutte le forze di opposizione non toccando i poteri del Presidente della Repubblica sul tema che può essere più diciamo significativo che è quello della nomina e della revoca dei ministri anche questo guardi io la vedo così già oggi quando diciamo un Presidente della Repubblica dà un incarico salvo casi proprio rari e il Presidente del Consiglio arriva con una lista dei ministri c'è una diciamo una presa di responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri esattamente come ritengo che se io oggi andassi al Presidente Mattarella e spiegassi perché uno dei miei ministri non è compatibile con l'attività di governo non avrei grandi problemi a revocarlo questo a maggior ragione quando un Presidente del Consiglio dovesse essere eletto cioè non ci vedo una contrapposizione ci vedo un lavoro che si può fare comunque insieme ma anche qui se il Parlamento forze di opposizione su questo che è una scelta che io ho fatto per andare incontro soprattutto a loro ripeto e a un sentimento che mi pare di essere diffuso volessero diciamo rafforzarlo particolarmente sul tema della nomina e della revoca dei ministri io non sarei contraria per me era importante ed è importante garantire i due grandi obiettivi che vi ho raccontato in apertura ma al netto di questo abbiamo fatto la scelta diciamo più aperta per arrivare all'obiettivo finale che è fare una rivoluzione anche tenendo conto delle valutazioni che ci arrivavano e anche tenendo conto del referendum e quindi della sensibilità degli italiani anche sul ruolo del Presidente della Repubblica ma sulla volontà di scegliere il loro Presidente del Consiglio dei Ministri queste sono le due cose che nella maggioranza di tutte le rilevazioni stanno insieme e quindi io ho fatto tenendo fede ai miei impegni noi abbiamo fatto quello che ci sembrava potesse avere la più ampia condivisione e poi saranno o le forze politiche in Parlamento con gli eventuali due terzi o i cittadini a dirci che cosa pensano di questa di questa ipotesi ripeto di riforma che secondo me sarebbe una enorme rivoluzione per il futuro di questa nazione non è una cosa che serve a me è una cosa che serve all'Italia bene intanto salutiamo il Vice Premier Matteo Salvini che per impegni debbe lasciare la sala la seconda domanda è per Francesca Pozzi di Mediaset buongiorno Presidente con questa riforma costituzionale lei ha detto si entra nella terza repubblica altri prima di lei hanno provato a rifondare la repubblica ma hanno fallito lei crede che questa volta sarà veramente la volta buona grazie guardi io confido di sì nel senso che non credo che stiamo facendo altro rispetto a quello che i cittadini ci hanno chiesto di fare questi obiettivi erano uno degli elementi portanti del nostro programma elettorale e perché penso che sia facile per un cittadino italiano rispondere a una domanda semplice vuoi scegliere tu chi governa la nazione e vuoi che quando scegli qualcuno che governa la nazione quel qualcuno possa avere cinque anni per governare la nazione realizzare il programma che la maggioranza dei cittadini gli ha chiesto di realizzare vuoi dire basta alle maggioranze variabili ai governi che passano sulla testa dei cittadini per realizzare programmi che nessuno ha votato ai governi tecnici ai ribaltoni al trasformismo è stato un male per la nostra Repubblica questo noi non lo possiamo negare l'orizzonte di un anno e mezzo delle legislature i soldi spesi per avere un immediato riscontro perché purtroppo non c'era alternativa l'assenza di una strategia a 360 gradi l'assenza di una credibilità internazionale perché quando qualsiasi dei nostri interlocutori si sedeva con noi con un rappresentante italiano la prima domanda che si faceva era quanto tempo durerai e la prossima volta che parlerò col mio interlocutore italiano sarà ancora lo stesso è stato male non è una questione diciamo che riguarda alcuni cittadini o altri cittadini poi chiaramente le sensibilità possono essere mille ma io credo di avere che noi abbiamo il dovere di dare quest'occasione all'Italia perché noi siamo una maggioranza che lo può fare proprio perché oggi non abbiamo quell'orizzonte breve dopodiché noi consegniamo all'Italia quello che andava fatto e facciamo un passo indietro e la parola passa al Parlamento prima e se non sarà sufficiente passerà ai cittadini e io penso che non sarà difficile rispondere a questa domanda quindi sono abbastanza fiduciosa Valentina Pigliautile di Public Police Salve Presidente due domande sul piano Mattei dal punto di vista finanziario c'è possibilità che all'interno del decreto rientri quel fondo per la cooperazione orizzontale in Africa che era previsto diciamo una prima bozza della manovra poi invece per quanto riguarda la struttura di missione volevo sapere se già ci fosse un orientamento sul nome del coordinatore della struttura lo chiedo perché all'interno per l'appunto del documento che abbiamo visionato c'è una disposizione nella quale si prevede che per il coordinatore non valga quel divieto di attribuire incarichi pubblici per l'appunto a dipendenti privati e pubblici già in pensione quindi se c'è già un nome un orientamento in merito grazie guardi sul coordinatore ci sono alcuni orientamenti ma è una cosa che non abbiamo definito e quindi diciamo mi riservo di informarvi in un secondo momento per quello che riguarda i fondi chiaramente i fondi che alimentano il piano Mattei sono diversi noi abbiamo già diversi ministeri che lavorano su questa materia a partire dal tema della cooperazione internazionale allo sviluppo prevede nella cabina di regia è prevista anche la presenza del viceministro competente che è il viceministro Cirielli come voi sapete io ho dichiarato che il 70% del fondo clima è destinato ai paesi africani perché la questione climatica la questione dei cambiamenti climatici impatta soprattutto sull'Africa perché è legata anche alla questione energetica perché come lei sa il piano Mattei si sviluppa molto sull'approvvigionamento energetico la produzione di materie prime di energie rinnovabili chiedo scusa e quindi anche questo e chiaramente anche l'ipotesi che c'era nella legge di bilancio è una delle ipotesi che si prendono in considerazione bisogna rimettere insieme tutto questo lavoro in parte lo abbiamo già fatto e la cabina di regia oggi la struttura di missione ci servono per fare questo lavoro in modo definitivo serio diciamo scientifico come si conviene a un governo su un provvedimento serio come questa sfida strategica per l'Italia che noi abbiamo lanciato Francesco Olivo della Stampa buongiorno presidente io andando fuori tema e mi scuso volevo andare alla telefonata allo scherzo telefonico dei due comici russi intanto volevo chiedere a lei e al sottosegretario Mantovano se voi eravate coscienti e fino a che punto che si trattasse diciamo di una come è emerso in questi giorni di una telefonata strana diciamo così o addirittura se lei avesse capito che si trattava proprio di uno scherzo vero e proprio e poi al sottosegretario Mantovano e anche alle presidente ovviamente se sì se sono stati informati in che momento i servizi e in caso il copasir grazie grazie a lei guardi allora come io ho già dichiarato ho verso la fine di questa telefonata avuto un dubbio particolarmente sul passaggio sul nazionalismo ucraino perché chi conosce diciamo il dibattito su questa materia sa che il tema del nazionalismo ucraino è un tema che pone solo la propaganda russa e quindi io oggettivamente ho avuto un dubbio non potevo avere una certezza perché c'è anche un'influenza russa ovviamente in Africa e quindi una certezza non potevo averla ho chiesto ho avuto questo dubbio lo ho segnalato al mio ufficio diplomatico che c'era qualcosa in questa telefonata che secondo me non tornava perfettamente e credo che diciamo lì ci sia stato ci sia stata una superficialità nell'ufficio diplomatico nel procedere alle verifiche in maniera in maniera seria e questa è la ragione per la quale questa mattina il mio consigliere diplomatico l'ambasciatore Francesco Dalò ha rassegnato le sue dimissioni e io lo voglio ringraziare perché lo considero un gesto di grande chiaramente responsabilità per una persona che è consapevole da capo ufficio che questa situazione è stata gestita con una leggerezza che ha ovviamente esposto la nazione ma guardi lo voglio ringraziare anche perché questo gesto di responsabilità racconta una persona che è al servizio delle istituzioni da qualche decennio e che anche con me ha lavorato in quest'anno tantissimo perché voglio dire anche questo insomma noi di queste telefonate in quest'anno ne abbiamo fatte almeno 80 e io penso di essere stata un presidente del consiglio che nel primo anno ha girato e ha organizzato e visto incontrato proprio omologhi come nessun altro e mi dispiace che in questo inciampo si possa mettere in discussione tutto questo lavoro che è stato fatto perché più fai e più rischi di sbagliare anche questo è un fatto insomma quindi io questa vicenda non è stata gestita bene siamo tutti ovviamente dispiaciuti l'ambasciatore Dall'Ossene ha assunto la responsabilità ovviamente come capo ufficio quello che posso dire per quello che mi riguarda è che ovviamente ringrazio lui e l'ufficio diplomatico per il lavoro che fa che nello specifico per quello che mi riguarda io se una telefonata viene organizzata l'ufficio diplomatica passata dal centralino di Palazzo Chigi tendenzialmente la devo dare per buona ma anche in questa occasione insomma ho ribadito le stesse posizioni che ribadisco anche pubblicamente e quindi penso che si sia confermato la coerenza del governo rispetto alle materie di politica internazionale Fausto Cariotti Libero Presidente buonasera io volevo capire alcune cose sulla riforma costituzionale per il premierato perché per come l'ho capita io di fatto il testo che avete presentato oggi introduce la possibilità di eleggere il capo del governo mediante ballottaggio perché nel momento in cui c'è quella soglia del 55% che mi pare confermata come sappiamo ci vorrà una legge elettorale quindi diciamo di natura ordinaria ma quella soglia non si può dare ovviamente a qualunque risultato venga conseguito dalla prima coalizione sappiamo anche qual è l'orientamento della consulta quindi mettiamo che venga fissata una soglia del 40% per accedere a quel 55% cosa accade se la prima coalizione o la prima lista non arriva a quel 40% si va al ballottaggio quindi è stato introdotto la possibilità di eleggere il presidente del consiglio con ballottaggio dobbiamo attenderci una proposta di legge del governo una proposta di legge elettorale del governo nelle prossime settimane e poi non ho capito come funziona tecnicamente la costituzionalizzazione del programma perché nel momento in cui un presidente del consiglio per qualche motivo vede cessato il proprio mandato toccherebbe ad un altro che però diciamo sposasse le dichiarazioni programmatiche presentate al momento dalla fiducia però il programma non governo non è solamente figlio delle idee magari quelle sono anche le stesse però quella fiducia è stata votata tre anni prima e in questi tre anni magari c'è stata una guerra c'è stata un'epidemia e quindi magari il programma originario che prevedeva che so il taglio di cinque punti delle tasse o l'abbandono rapido dei motori dei veicoli a motore endotermico non si può fare perché la situazione è cambiata e allora che si fa si scioccono le camere in quel caso visto che il nuovo programma visto che il vecchio programma non è sposabile dal nuovo governo per mutate condizioni grazie allora guardi poi se il ministro Casellati anche vuole intervenire volentieri per quello che riguarda il tema del ballottaggio noi non abbiamo affrontato questa questione non l'abbiamo affrontata volutamente rimandandola alla legge elettorale non viene introdotto e non viene escluso perché è una materia che deve riguardare la legge elettorale sulla quale ovviamente noi ci mettiamo a lavorare a fare le nostre le nostre valutazioni ma che poi deve essere vista anche con il Parlamento come lei sa insomma che è centrale in questa dinamica in ogni caso abbiamo lasciato per ora il tema aperto e io sono anche voglio dire abbastanza diciamo laica su questa materia qui dopodiché per quello che riguarda il tema della costituzionalizzazione del programma guardi questo vale per qualunque presidente del consiglio che rispetto a quando tu scrivi un programma a quando vai avanti alcune cose possono essere possono modificarsi in corsa per necessità o non riuscirsi a realizzare cosa diversa è cambiare la visione un governo cosa diversa è fare cose diametralmente opposte a quelle che sono scritte in un programma per cui non si tratta di ma perché questo vale anche con il presidente diciamo eletto a monte per le sue dichiarazioni programmatiche non può essere contraddittorio con gli obiettivi che si dà quella maggioranza che si dà che si dà che si è dato il presidente del consiglio che è stato eletto e quindi è un lavoro che va fatto e si può fare solo in continuità rispetto al precedente non può contraddire il lavoro che è stato fatto precedentemente indipendentemente dagli obiettivi che possono non riuscirsi a realizzare perché cambiano gli scenari ma questo è secondo me tema che garantisce che in ogni caso non ci sia la possibilità che se accade qualcosa si cambi nell'arco del quinquennio linea politica questo è quello che noi abbiamo voluto garantire voglio dire che sto da subito lavorando per mettere a terra la riforma elettorale perché è chiaro che in presenza di questa novità c'è una legge elettorale che va adattata a quella che è quella che sarà o che potrà essere una nuova forma di governo chiaro poi che ci sarà un ampio anche qui come abbiamo fatto per cambiare la forma di governo ci sarà un'ampia consultazione come sempre questo è il metodo che abbiamo adottato è il metodo che continueremo ad adottare anche per la legge elettorale chiaro che ci sarà l'individuazione di una soglia perché nel momento in cui si stabilisce che si arriva fino al 55 potremmo pure superarlo quindi il 55 rimane un'ipotesi diciamo minima e il e quindi non appena sarà pronta e ci sto già lavorando sarà pronto anche il confronto come sempre Simone Canettieri del Foglio Buongiorno Presidente senta volevo riprendere la questione della telefonata e chiederle se lei la reputa uno scherzo diciamo di due buontemponi russi o se invece è un atto di guerra ibrida che muove la Russia nei confronti appunto dell'Italia e saltando di pari in frasca sulla riforma costituzionale se davanti al referendum e davanti a una ipotetica sconfitta se lei si dimetterà oppure no insomma se politicizzerà il referendum come? no niente era una fattuta perché c'è chi si è dimesso come lei sa sì c'è chi si è dimesso dopo aver detto se perdo il referendum mi dimetto ma in questo caso diciamo io ho detto una cosa molto diversa ho detto e poi si è dimesso io ho detto una cosa diversa ho detto ho fatto quello che noi dovevamo fare ho fatto quello che è scritto nel mio programma faccio la riforma la consegno agli italiani e sono gli italiani che decidono e questo nulla ha a che fare con l'andamento del governo perché io sto realizzando il programma di governo per il quale sono stata votata e questo faccio sulla riforma costituzionale come su tutto il resto per quello che riguarda il tema della telefonata guardi quello che posso dirle io è che come lei sa questa telefonata è stata rilanciata prima di tutti da canali organici alla propaganda del Cremlino questo forse qualche domanda deve indurla forse dovrebbe indurre a qualche domanda anche chi sta facendo da megafono a questi comici che ieri dicevano in televisione di non voler fare questo genere di scherzi al capo del governo perché sono d'accordo con il loro capo di governo e delle volte guardi io ho detto mi dispiace chiaramente per tutta questa vicenda a me è dispiaciuto anche che delle volte per attaccare questo governo si sia disposti anche ad attaccare l'Italia perché è ovvio che se le cose fossero così ma io non ho le evidenze per dirlo oggi so insomma che so quello che le ho detto che è stato rilanciato dalla propaganda del Cremilino se noi siamo stati oggetto di questo tentativo di disinformazione di creare problemi è anche per le posizioni che abbiamo probabilmente a livello internazionale e mi parevano posizioni condivise per cui mi dispiace che anche in questo caso da parte di alcuni ho visto che si è disposti a fare da megafono la propaganda russa per attaccare il governo Meloni anche quando non si fa un favore all'Italia ma ognuno fa le sue scelte e su questo insomma posso semplicemente dire che mi dispiace ultime due domande Francesco Bechis e poi abbiamo Repubblica sì buonasera Presidente allora torno sulla telefonata in cui lei accenna a una certa stanchezza all'idea europeo nei confronti della guerra in Ucraina in un'intervista al Time il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky dice nessuno crede alla vittoria ormai più di quanto ci crediamo noi esiste effettivamente questa stanchezza a livello europeo crede che possa riguardare anche l'opinione pubblica italiana e poi le chiedo se la guerra in Medio Oriente teme possa distrarre l'attenzione e il sostegno occidentale e anche italiano eventualmente alla causa acraina grazie allora guardi sul tema della stanchezza non ho detto niente di nuovo nel senso io sono consapevole del fatto che le opinioni pubbliche anche la nostra opinione pubblica soffre per le conseguenze del conflitto è un tema che ho segnalato a 360 gradi le faccio un esempio guardi quando sono stata l'ultima volta in Parlamento prima del Consiglio Europeo io ho detto che secondo me sarebbe stato un enorme errore se l'Europa avesse deciso di rivedere il bilancio pluriannale unicamente per affrontare il tema delle risorse all'Ucraina e ho detto in Parlamento se noi immaginassimo di trovare solamente le risorse per l'Ucraina ma non per aiutare le opinioni pubbliche a partire dalla nostra che pagano le conseguenze del conflitto non aiuteremmo il conflitto in Ucraina e anzi non aiuteremmo chiedo scusa all'Ucraina a difendersi nel conflitto perché in democrazia funziona che comunque ci vuole anche il sostegno dell'opinione pubblica e non è che io sia un alieno e non mi renda conto del fatto che tra inflazione prezzi delle materie prime prezzi dell'energia e tutto quello che abbiamo visto flussi migratori non ci siano delle conseguenze e quindi io ho detto una cosa che tutti sanno da persona che conosce o diciamo alla presunzione di capire l'umore questo non toglie che io mi sono assunta e noi ci siamo assunti la responsabilità in una posizione che è chiarissima e forse anche per questo telefonano a noi no perché noi siamo stati una una certezza nell'attuale contesto non vuol dire essere consapevoli di quella stanchezza non credere nella vittoria dell'Ucraina noi ci abbiamo creduto dall'inizio continuiamo a crederci e continuiamo a fare quello che possiamo fare per dare una mano dopodiché se questo non dovesse accadere negli anni a venire abbiamo anche detto l'unica possibilità che abbiamo è mettere l'Ucraina nella condizione di competere diciamo di avere un equilibrio nel conflitto che è anche l'unica condizione base per eventualmente arrivare a una soluzione negoziale del conflitto quindi niente di nuovo rispetto a quello che ho sempre detto sul tema del Medio Oriente guardi questa la ringrazio per questa domanda perché è una questione che io ho posto a vari livelli io penso che quello che sta accadendo anche questo forse l'ho detto in Parlamento penso che quello che sta accadendo nel mondo sia anche figlio dell'invasione russa dell'Ucraina quando la Russia invase l'Ucraina qualcuno di noi disse se saltano le regole della pacifica convivenza se saltano le regole del diritto internazionale noi vedremo i focolai moltiplicarsi se noi lasciamo passare il principio che chi è militarmente più forte può liberamente invadere il suo vicino noi ci ritroveremo in un mondo di cause un mondo di cause impatterà su di noi è la ragione per la quale aiutare l'Ucraina a difendersi è un modo per difendere anche il nostro interesse nazionale purtroppo abbiamo visto perché il ministro Tajani ne è ancora più consapevole di me dalla vicenda ovviamente di Hamas Nagorno-Karabakh Serbia-Kosovo cioè noi vediamo ogni giorno moltiplicarsi focolai di crisi e io credo che sia tutto figlio dell'invasione russa all'Ucraina è il motivo per cui nell'ultimo consiglio europeo ho detto e ho detto in Parlamento questo è il momento a maggior ragione per non abbassare la guardia sull'Ucraina perché ovviamente ci può essere chi spera che dovendo noi affrontare diversi scenari alla fine dobbiamo mollare qualcosa non possiamo permettercelo questo ho detto in Parlamento e questo penso andiamo con Tommaso Ciriaco di Repubblica buonasera Presidente ne approfitto tanto sono l'ultimo se posso tre flash tornerai un attimo sulla telefonata per chiederle forse non ho capito io se c'era stata una consapevolezza di una telefonata strana perché se sono stati allertati ai servizi e se non lo sono stati allertati perché non è stata fatta questa scelta rispetto alla riforma Presidente volevo chiederle se in qualche modo c'era stata una sua interlocuzione diretta con il Presidente Mattarella prima della scrittura del testo o con gli uffici del Quirinale e poi se posso un'ultima curiosità io non ho capito tornando alla domanda che aveva fatto prima il collega chi eventualmente dovesse valutare la coerenza fra il programma del primo premier per intenderci e di quello che segue cioè qual è poi la sanzione chi interviene chi eventualmente giudica questa eventuale coerenza grazie allora sul tema della telefonata io credo che questo sia l'errore principale che è stato fatto dall'ufficio diplomatico come le ho detto prima perché io segnalai che secondo me qualcosa non funzionava e loro non hanno fatto delle verifiche fatte bene quindi a me non è tornato un alert sul fatto che in effetti questa telefonata poteva non essere e non mi ha consentito di muovermi questo è il vero la cosa che io considero ancora sì se vogliamo più superficiale rispetto a il tema di fissare la telefonata a me non essendo tornato l'alert io ho dato per scontato che le cose fossero corrette nel senso che io ho detto guardate mi fate sapere se no non ci sono problemi e quindi non mi ha consentito di operare per quello che riguarda il Presidente della Repubblica sulla riforma chiaramente c'è un'interlocuzione stiamo parlando della riforma costituzionale c'è stata un'interlocuzione con gli uffici del Presidente insomma come tra l'altro avviene per tutti i provvedimenti come lei sa insomma prima di particolarmente su questa materia per quello che riguarda il tema del programma beh sicuramente nel momento in cui entra nella Costituzione è evidente che anche il Presidente della Repubblica ha un ruolo sulla materia del programma e della compatibilità con il programma perché diventa incostituzionale fare qualcosa che è contraddittorio rispetto al programma di governo ma io credo che questo aspetti soprattutto a una maggioranza se la maggioranza è quella e rimane la stessa ovviamente la maggioranza ha interesse a portare avanti quel programma di governo e non a portarne avanti un altro altrimenti il Presidente del Consiglio va a casa e si torna a votare che è la cosa più facile bene grazie a tutti buona giornata grazie